Bella a tutti i free readers e bentornati a questo appuntamento con Araldi Canapa, Stemmi contro lo stigma. Oggi parleremo dello stemma di Adrada de Asa, una piccola città nella provincia di Burgos, nella comunità autonima di Castiglione in Spagna. Dunque, come vedete lo stemma lo facciamo già comparire, iniziamo a parlare un po' della città, perché comunque abbiamo l'origine che risale al X secolo e già in questi anni pare si coltivasse cannabis in questa area rurale. La città si è assicurata la sopravvivenza e la certezza di sopravvivere dall'anno 1010, anno in cui muore Abd al-Malik, il figlio di Al-Manzor, e in questo modo la popolazione riesce ad ampliarsi, esce da questo regno sud evidentemente, e riesce ad ampliarsi nel territorio iniziare anche a coltivare cannabis. Questa città fa parte della comunità di Viglia di Tiara de Asa e dipende jurisdizionalmente da Asa, e praticamente nel 1738 con Felipe V al potere acquista la sua indipendenza e col conte di Miranda diventa proprio una zona di villeggiatura. Poi cade l'antico regime, eccetera eccetera, nel 1842 contava solo 78 case e 312 persone, quindi pensate comunque una comunità davvero ristretta che però, come dimostra il suo stemma, ha sempre coltivato cannabis e per cui la ringraziamo per questo e per averlo anche ricordato nel suo stemma. Il suo stemma è infatti mantellato nel primo riquadro centrale in argento, un incrocio a sciabola su più gradini con una croce a capitello e bracci cilindrici con rilievi del crocifisso di Maria ed è accompagnato da un ceppo verde con foglie e una sciabola di grappoli con una trave di canapa fiorita in verde, appuntita e sotto, accompagnata da un'onda azzurra evidentemente a rappresentare i fiumi e quello che si coltivava, poi la parte in rosso con lo stemma di Castiglia e sopra la parma da martire d'argento, la colonna istoriata con base capitale della stessa, sormontata da una colomba d'argento e sopra, come vedete, la corona reale chiusa che rappresenta il regno di Spagna a cui appartiene questa comunità.